Cosa è successo? Sono uscite notizie stamattina, Luis deve acquisire la quota di Fedez, quindi Fedez deve vendere la sua quota, Muschio Selvaggio, stamattina è uscita su tutti i giornali questa notizia, Fedez è costretto a vendere la sua quota, perché? Muschio Selvaggio è gestito da una società che si chiama Muschio Selvaggio, SRLS credo, che ha il 50% di Fedez e il 50% di Luis, ci siamo? Ok, mai fare società al 50%, dopo varie trattative che ovviamente non vi sto qua a dire, dopo vari piselli legali che non vi sto qua a dire Ma è una scelta che va presa da entrambi, oppure uno dei due può comprarsela e basta? Ci sono dei tecnicismi all'interno dello statuto di questa società, una norma che credo sia americana ma è stata adattata anche nella costituzione della società, che si chiama proprio se non sbaglio stallo, una cosa del genere, quindi ad un certo punto se una società è il 50% Per evitare che rimanga in un limbo, uno dei due è costretto a fare un'offerta E chi è dei due che può essere costretto secondo la legge? Io adesso non lo so perché non hai colletto le carte, io non so a che punto sono nella contrattazione, sinceramente sono cose loro Ok, però che è successo? Stamattina, ne sto parlando perché stamattina è uscita fuori una notizia In realtà la notizia chiaramente non è completa, perché? Perché purtroppo funziona così Sono Davide Marra, vorrei comunicare che me ne andrò dal Cerbero Podcast perché Simone Santoro mi ha messo una banana sulla sedia Ok, oggi, va bene? Se io ho abbastanza forza mediatica, solitamente il giornalista non è il migliore Prende questo comunicato stampa senza fare grosse verifiche, tendenzialmente lo pubblica Va bene? Ed è quello che è successo Quindi ciò che poi è stato ripreso dalle pagine, con i commentini che citava anche Simone, no? Dalle varie pagine trash italiane e cose di questo tipo, è una parte di quello che sta succedendo nelle aule Quindi non c'è una sentenza definitiva che ha decretato Fedez deve vendere la sua quota a Luis No, come ha specificato infatti anche il buon Federico nelle storie, ma lo vediamo Io non capisco proprio dal punto di vista di un creativo, no? Nel senso, tu hai un progetto come adesso il Cerbero, ci abbiamo noi, no? Succede qualcosa e appunto io me ne vado Se voi continuate i vostri contenuti, cioè a me che cazzo me ne frega di ostacolarvi O comunque, cioè, di avere la paternità di un qualcosa che agli effetti ho lasciato continuare ad altri Eh, però se ti lasci male, magari è una ripicca, capito? Se c'è del personale, se c'è dei proprio bad feelings, ovviamente tu potresti mettere di traverso Soltanto per fare in modo che gli altri abbiano dei problemi Poi ricordo la campana di Luis, correggetemi se sbaglio, non era un tanto un me ne voglio andare Era tipo che lui voleva che il podcast si prendeva una pausa perché c'erano delle cose che non gli piacevano E poi dice che è stato ripreso, eh, se è ensa di lui Sì, però ragazzi, ovviamente io su queste cose Lo so che ci sono tanti soldi di mezzo, ma Questa è la campana che aveva detto Luis Sì, però ragazzi su queste cose, ovviamente non me posso esprimere Dato che ripetiamo dall'inizio che tanti soldi non ci hanno mai influenzati Neanche tanti o pochi che siano che facciamo noi Eh, non, diciamo, non ci influenzano anche perché ci consentono di lavorare con serenità Cioè, magari avremmo già litigato se fossimo state delle persone incentrate sui soldi Perché è un mondo dove girano i soldi, insomma Però, appunto, esiste anche, è anche un mondo fatto da creativi Non è che siamo degli squali che pensano solo al vil danaro Sì, sì, ma quello che vi dico io è che per quanto riguarda le questioni interne Cioè, quello che è successo tra di loro Io ovviamente non me posso esprimere Perché io so tanto cose non pubbliche, non renderò tali E quindi io semplicemente sto precisando ciò che è già diventato di dominio pubblico Altrimenti avrei parlato dieci mesi fa, ok? O nel corso di questi dieci mesi Io non ho detto nulla in dieci mesi Su Luis, su Federico, su i loro dissidi Su, ovviamente, gli errori fatti da tutti e due Quello che dico è che, ovviamente, è uscita sta notizia Muschio selvaggio è di proprietà di Luis Bombardamento sotto l'ultima puntata Bombardamento sul mio Instagram Bombardamento sulle varie pagine che hanno ripreso la notizia Andatevene di Luis, coglione Adesso dovete dare tutto a lui Vedete che alla fine aveva ragione Non è così Cioè, semplicemente, ripeto È stata ripresa una nota dell'ufficio stampa, credo, di Luis Dove sono riportate delle cose parziali L'altra parte è la seguente Che il Tribunale di Milano Leggo qua testualmente Non ha decretato che le quote appartenenti a Fedez Debbano essere vendute a Luis Sal E questa è la prima differenza importante dalle notizie che sono uscite Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata Ok? Questi sono dei provvedimenti che sono stati presi senza ancora una sentenza definitiva Però questo si fa per tutelare la società Cioè, vengono messi magari degli amministratori temporanei di sostegno O dei soci di sostegno Affinché la società non perda valore Nell'interesse delle due parti Al 50% E ovviamente questo lo si fa repentinamente Per evitare che magari uno dei due possa rovinare la società E dunque poi far scendere il prezzo Quindi sono delle misure Fatte con una certa velocità Ma non c'è una sentenza Cioè la gente ha detto Ah la sentenza Che Fedez deve vendere Non è così Non è così ovviamente Il giudice ha stabilito che un custode Che è quello che vi dicevo Credo si chiama amministratore di sostegno Una roba del genere Gestirà le mie quote Nell'interesse della società muschio selvaggio Anche se gli danno a questo custode fisicamente queste quote Se le tiene in un sacchetto Il pacchetto Il pacchetto Un pacchetto di prove Di quote Esatto E non nell'interesse di Luis Certo Perché questo amministratore è terzo Ok? Non è che è un avvocato di Federico Un avvocato di Luis Un socio di uno Un socio di un altro In teoria è una figura terza Che arriva lì E dovrebbe preservare questa società Questa realtà giuridica Che è muschio selvaggio SRL No? Persona giuridica Di conseguenza Come mai lui dice Specifica Nell'interesse della società E non di Luis Eh quello che ho appena detto Eh ma Lo specifica perché in realtà Oggi è uscito fuori il contrario Cioè quello che sembra è che Cioè qual è l'interesse della società secondo te? L'interesse della società È quello che ti dicevo Non far perdere il valore Al brand muschio selvaggio E alla società muschio selvaggio Chiaro E invece Luis Facendo così Lo danneggia secondo me Quella è la tua valutazione Poi magari lui invece Non lo so È intenzionato a comprarlo Per mettere un nuovo A me sembra intenzionato A romper il cazzo È intenzionato alla distruzione Esatto Sarebbe altamente cringe La gente ora che sia affezionata a voi Sì assolutamente sì La gente che sia affezionata a voi Adesso secondo me Allora ci stanno quelli vecchi Che hanno smesso di vederlo Che hanno ancora affezionato alla cosa Che dicono vabbè Sfortunato Che palle Però quelli veri Che seguono veramente Fattualmente adesso Muschio selvaggio E vedono i contenuti Che fai tu Davide Insieme a Federico Che stanno vedendo pure Una nuova direzione Secondo me Interessante Non avrebbe proprio senso Cioè è solo per mettervi bastoni Fra le ruote A mio avviso Ripeto A meno che non abbia già Un altro podcast In pentola Ma non è che fai la guerra Dei podcast Ma falle e basta No? Capito? Uno che acquista A bei sordi Una società Per poi distruggerla A parcheggiarla A casa vostra Se chiama furbo O se chiama coglione Perché io Sto a cercare di capire Perché io spendo Che cazzo ne so Tre piotte 300 euro Perché il podcast C'è come 300k magari Facciamo una cifra così Mi compro una roba Perché Semplicemente Non voglio che c'è un'altra E la metto là parcheggiata Sono un fenomeno Sembra forte Non ci avrebbe senso Sai che farei io invece Troverei il modo De guadagnarci comunque I sordi Senza fancazzo E lasciare fare l'altro Sì Ma grazie Lo subaffitti Chi ce mette Secondo me sarebbe Una mossa più furba Se lavorano l'altro Magari Se io sono socio Potrei pure farlo Comunque Prendo dei sordi Ah Bobo di via Ha fatto una roba del genere È vero Effettivamente Luis in quanto podcaster È stato sempre scadente A livello Questo lo dico io È una mia valutazione Io l'ho detto in tempi Non sospetti Quindi ricito il me Dell'epoca A livello tecnico Ma l'avevo detto pure a Federico Confermo pure su Federico Era una presenza Perché c'era Laura Di Luis Oddio c'è sta Luis Quindi guardiamo Sto progetto nuovo Di Fedes Ok però Cioè a livello di apporto Non mi sembra che Abbia mai dato Ha dato Non è che non ha dato niente Però a livello di professionalità Podcast Adesso La stai portando tu Questo tipo di professionalità Che ha uno stampo Che mi piace più Della professionalità Che portava Luis Prima Ad esempio Penso che con altro annetto Di esperienza Arrivate a livello Cazzoli Dai tranquillamente Dici Sul resto io Chiaramente non mi esprimo Nel senso che Ovviamente Ho un mio punto di vista Che è parziale Oltre che in palese Conflitto di interessi Quello che posso dire Onestamente Uscendo fuori dallo scherzo È che Io Ho avuto modo Di conoscere Luis Lui Sta facendo Le valutazioni Del caso Indipendentemente Da come andrà a finire Questa storia Io sono stato Molto bene È stata un'esperienza Bellissima Difficilissima Ogni giorno Una nuova avventura Però sono stati Alla fine Dieci mesi Intensi Eh sì Perché La prima puntata È quella con Svazzer A me sembra Tipo sei anni Ancora dieci mesi A me sembra Il tempo Mi spaventa Ovviamente Io ragazzi Non sono socio Di Muschio Selvaggio Sei solo un grande Eh Sono sempre pensato Che è un po' socio Lo so Non sono socio Della Muschio Selvaggio SRL Vabbè Poi pure se fosse Sono tutti i soci Col culo dell'altro Ma poi c'è Non è che c'hai Ai percentuali Esatto Esatto E quindi Io non ho Chiaramente Potere decisionale Sono stato chiamato Dieci mesi fa Per Per fare qualcosa Per Ricoprire un ruolo Spero di averlo fatto Bene Io comunque Ce l'ho messa Veramente tutta Ovviamente Ho Dato un taglio diverso Come diceva pure Simone Al podcast Penso sia abbastanza evidente Sono una persona ovviamente diversa Da Luis Da Martin Anche Federico Ha cambiato un po' approccio Ma poi Secondo me Era anche giusto Non è solo la conduzione Io penso che sia cambiato Di netto anche Della preparazione La scelta Io non credo che prima C'era un lavoro De scelta De domande Come può essere adesso Eccetera Credo No no Era un altro prodotto Da spettatore Perché io quello che Quello che fate adesso Non lo so Nella sua interezza E quello che facevano prima Non sono cazzo Era un altro prodotto Da spettatore Immaginando come può funzionare il tutto Sì sì Ma aveva anche Altri obiettivi Fondamentalmente Aveva Un altro Stampo Quindi Al di là poi Delle preferenze Meglio Peggio Condotto meglio Condotto peggio Più divertente Meno divertente Più interessante Però era una cosa Completamente diversa Quindi abbiamo deciso Poi di dare un taglio Completamente diverso Nella gestione Delle puntate Nel Proprio nell'obiettivo Del podcast Nella conduzione Nella selezione Degli ospiti Nelle accoppiate E ovviamente Non siamo Soltanto io e Federico A lavorarci C'è uno staff Che ha fatto tanto E io mi sono trovato Benissimo anche con loro Devo dire Veramente persone Che mi hanno accolto Subito Come se fossi Uno di loro Come diceva pure Simone Già da sei anni Cioè mi sono sentito Subito integrato E quindi Sì Per carità Mi fanno tanto piacere I complimenti Del tipo Ecco Hai stravolto Il podcast Così Però È anche vero Che me l'hanno permesso loro In primis Federico Perché comunque è stato umile Cioè Prendere una persona Che comunque Ti aveva criticato Asparamente Nella conduzione E Darmi comunque Quel posto importante E poi Tutti gli altri Che hanno deciso Di Insomma Di accogliermi Come fossi Insomma Loro amico Detto questo Io non lo so Nel senso che Attendiamo le notizie Dall'avvocato Tra l'altro divertente Come voi L'avvocato L'abbia chiamato Anche lui Però funziona così In effetti Nel mondo degli adulti L'ha detto L'ha detto l'avvocato Lui si è attaccato ai sordi E non ciò lo facevo Eh vabbè Ma un po' deluso Perché è un creativo C'è una persona Che trova modi molto creativi Dei fa sordi Quindi poi si ritrova Pure da spendere Quella è una forza Parco due È una skill Penso di essere l'unico amico Di FedEx in questi anni Che ancora non è diventato milionario Quindi mi sa che sbaglio io qualcosa Forse Forse Non lo so Non perseguo gli stessi obiettivi Di alcuni amici Che Che lo hanno Accompagnato Nel corso degli anni Però appunto Al di là di tutto Vedremo ragazzi Noi abbiamo comunque Delle puntate Registrate E quelle le pubblicheremo Anche perché noi abbiamo chiesto All'avvocato E ci ha detto che Ciò che abbiamo fatto Lo possiamo continuare a pubblicare Anche perché Nell'interesse della società Quindi ritornando al discorso Dell'interesse Della Muschio Selvaggio È nell'interesse Che si continui A portare un contenuto Continui a prescindere Ma certo Perché se noi ci fossimo Impantanati per mesi Senza pubblicare un cazzo Sarebbe stato un danno Quindi in realtà Abbiamo dato Penso anche dal punto di vista Economico Valore Poi è molto difficile Secondo me in questi casi Perché si creano Sti problemi burocratici Al di là veramente Di Federico Del buon Luis Perché è anche difficile Dare un valore Economico Quantificare Il valore di una società Che comunque è di stampo Creativo Cioè Uno potrebbe dire No Il podcast è peggiorato Da un punto di vista economico Perché Boh Forse ci sono stati momenti In cui ha fatto più views Però uno potrebbe dire Qualitativamente è migliorato Perché adesso si è posizionato Come uno spazio di informazione Che in realtà vale molto di più Boh Non si sa Quindi anche per quello È difficile valutarlo Però Ripeto Io ho fatto quello che dovevo fare Continuerò a farlo Pubblicheremo le puntate Che abbiamo girato Che sono fighissime E poi Vedremo Se si venderà A sta quota Io Ma si può rispondere A sta domanda Quale? Luis Ha continuato a guadagnarci Con le vostre puntate Beh lui è socio al 50% Quindi in teoria Lui continua a prendere Il 50% di tutto Sì In teoria sì Penso che sì Poi non so se Ha ricevuto i bonifici È una cosa da poco No 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 Vabbè Lui Ripeto Se uno di noi Se ne andasse E non facendo Un cazzo di niente E ripeto Uno stracazzo Di niente Continuasse a prendere La metà dei guadagni Del lavoro altrui E poi Arriva E denuncio Capito Io me ne vado Facciamo E denuncio pure Però Mi vuole la sua parte È giusto così Mi sa che non state a capincazzo Regà Non siamo noi che stiamo a leccar culo Me sa eh Me sa E forse Poi il tempo darà Ovviamente Le giuste ragioni A chi di dovere Infatti li vedo